Ci troviamo in Viale della Libertà di Battipaglia. Già in passato vi abbiamo mostrato delle immagini su dei lavori che sono stati fatti qua, sono stati rifatti in marcia a piedi. Prima sulla sinistra venendo da Battipaglia, diciamo verso Eboli, ora sono in cantiere i lavori sul lato destro, sempre venendo da Battipaglia. Le osservazioni che volevamo fare, questi lavori fanno parte di un pacchetto di 1.600.000 Euro che a ribasso sono stati aggiudicati per 1.200.000. Qual è il problema fondamentale? Non solo Viale della Libertà ma anche altre strade erano previste per il rifacimento. Quello che noi non riusciamo a capire, rifare i marci a piedi in Viale della della Libertà, che bene o male erano in una condizione ottimale, mentre ci sono strade come Viale Pastore, Via Gonzaga, Via del Centenario e chi ha più ne mezza le traverse di Via Roma che sono in una condizione pietosa. Vorremmo sapere pubblicamente una spiegazione perché di questa scelta che ci sembra al di poco incisiva rispetto alle reali esigenze che ha il problema stradale di Battipaglia.